è un problema che riguarda tutti l'unica cosa che vogliamo trasmettergli è il rispetto per la vita siamo in tanti a combatterla abbiamo fatto il test ed ora siamo più uniti con un solo gesto difendo me e il mio compagno fai il test HIV e usa il preservativo uniti contro l'AIDS si vince grazie